La Cassazione ha dato ragione all'Italia, adesso il Lisippo deve tornare da noi, cosa ne pensa? Beh, sarebbe bello perché è proprio nostro, diciamo così, l'abbiamo trovato qui davanti, quindi sarei contento che ritornasse. Dove lo vorrebbe vedere? Insomma, in quale posto di Fano le piacerebbe vederlo? Beh, al museo. Un museo, fare un museo ad hoc? Un museo ad hoc, qualcosa insomma. Insomma, tutta l'Italia verrebbe qui a vederli, insomma. Beh, sarebbe un motivo in più per venire a Fano, mi sembra. A Riace con i bronzi ci hanno fatto... Quindi potremmo fare qualcosa anche noi, diciamo. Può essere un'occasione importante per portare il turismo, io mi focalizzerei molto su questo, dopo a livello storico ha il valore che ha, però. A Fano ci starebbe bene? Male non farebbe di sicuro, ecco, diciamo. Speriamo. Sì, deve tornare in Italia, però i tempi sono lunghi. Lunghi. Chi l'ha comprato non ha intenzione di ridarlo, speriamo che ritorni l'originale. Dove lo mettiamo? Ecco, dove lo mettiamo? È Filippo Corridoni. Ecco. In quella piazzola lì che si sta facendo un parcheggio e ci si mette l'esippo. Non sarebbe male così, tutti lo vedono. Eh, tutti lo vedono. Oppure, non lo so, Piazza Costanzi. I posti ce ne sono tanti, ce ne sono. Io sarei contento, però la fiducia è poca. La vede un po' dura? Da quant'è che è? Da 64 che l'hanno preso. Quella volta. Secondo te gli americani non lo mollano? Per me no. A meno che l'Italia fa la guerra. Grazie. Grazie.